Gol, emozioni, divertimento, 4 a 2 a liberazione per Lomenia che conquista la seconda vittoria consecutiva battendo la Valdilana biogliese, una partita che ha regalato davvero tante emozioni. Dopo 90 secondi, brividi per i rossoneri con un'uscita sbagliata di Borella, che non ne approfittano però gli ospiti al dodicesimo tiro di Bosco, la palla termina a lato. Il gol dell'Omenia arriva al quindicesimo ed è merito di Marra che pesca nello spazio la corsa di Modesti, migliore in campo, controllo e convergenza verso il centro, destro a giro all'incrocio dei pali. 1 a 0 per l'Omenia che raddoppia dopo tre minuti, questa volta è bravissimo Progni ad andare via in fascia, dribblare un paio di avversari a mettere un cioccolatino per Montani che trova il 2 a 0. Alla ventiquattresimo si sveglia la formazione ospite, colpo di testa di Giglio, palla alta. Ancora Giglio al ventottesimo da ottima posizione, il suo sinistro però termina a lato. Alla trentatuesimo, bel tiro di Montani che per una questione di centimetri non trova il 3 a 0. Alla trentacinquesimo accorcia le distanze la Valdirana a Biogliese, punizione di Giglio, deviazione fortuita di Tinalia nella propria porta, 2 a 1, 3 minuti e arriva il 2 a 2, punizione di Torta. La difesa dell'Omenia sale e male, la palla rimane lì e per Lorenzo un gioco da ragazzi. Firmare il 2 a 2 nella ripresa tra l'ottavo e la nono, doppia chance per l'Omenia. Prima Tinalia coglie un clamoroso palo, poi Progni calcia addosso a un avversario. Al venticinquesimo la chance ce l'ha Giglio in contropiede. La sua conclusione però da ottima posizione termina alta al trentaduesimo. Sugli sviluppi di un corner la devia a Marra sul secondo palo, però non c'è nessuno. Poi il finale pirotecnico al quarantatresimo, colpo di testa di Modesti e palla che sbatte sulla traversa, rimbalza sulla linea. L'Omenia però non ha almeno il tempo di recriminare un minuto, infatti ottiene un giusto calcio di rigore per un fallo di mano. Dal dischetto va Marra che batte forte e centrale 3 a 2. Le emozioni però non sono finite in pieno recupero, infatti Modesti trova anche il poker, la doppietta personale facendo esplodere i propri compagni.